Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque affaticato per il viaggio sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere l'acqua. Gesù le dice dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna signore non hai un secchio e il pozzo è profondo da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore gli dice la donna dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice va a chiamare tuo marito e torna qui. Gli risponde la donna io non ho marito. Le dice Gesù hai detto bene io non ho marito infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito in questo hai detto il vero. Gli replica la donna signore vedo che tu sei un profeta i nostri padri hanno adorato su questo monte voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice credimi donna viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il padre. Voi adorate ciò che non conoscete noi adoriamo ciò che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei ma viene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e verità così infatti il padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna so che deve venire il messia chiamato Cristo quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa le dice Gesù sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora andò in città e disse la gente venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano rabbì mangia. Ma egli rispose loro io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco io vi dico alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie il frutto della vita eterna perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere perciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti i samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimesela due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo. Parola del Signore Ecco in questa terza domenica cominciamo o meglio proseguiamo il cammino attraverso tre incontri. Oggi l'incontro di Gesù con la samaritana, nella prossima domenica Gesù con il cieco nato e nella ultima domenica Gesù con Lazzaro che fa risorgere dalla morte. Sono le tre tappe che fin dall'antichità la chiesa faceva ascoltare, faceva percorrere ai catecumeni, cioè a quelli che dovevano e anche oggi succede così saranno battezzati nella notte di Pasqua perché sono tre vangeli, tutti i tre brani, tutti presi dal vangelo di Giovanni che ci aprono a comprendere il mistero del battesimo. Ecco in questo lungo brano ma bellissimo di oggi Gesù con la samaritana si incontrano al pozzo di Giacobbe. I pozzi erano i luoghi di incontro fra gli uomini e le donne al tempo della Bibbia, erano i luoghi dove senza scandalo uomini e donne che non si conoscevano si potevano incontrare, ma il pozzo è anche il simbolo per la tradizione ebraica della Torah, della parola di Dio, della legge a cui Israele attinge vita e Gesù parla proprio di quest'acqua viva giocando sul doppio senso. Acqua viva vuol dire acqua fresca, acqua disorgente, ma acqua viva può voler dire anche acqua che dà la vita, che dà una vita nuova, che dà una vita diversa e piano piano in questo dialogo la samaritana si fa condurre da Gesù a tirar fuori, a raccontare tutte le sue seti. Si parte dalla sete dell'acqua concreta ma si passa alla sete di una vita meno faticosa, ecco che costringe, la costringeva tutti i giorni ad andare a prendere quell'acqua fino ad arrivare alla sete più profonda, alle seti più profonde, la sete di un'affettività completa, bella, che lei non ha mai trovato nelle sue relazioni con cinque mariti, come dice il testo, con cinque uomini, ecco il desiderio di tutti noi avere un amore vero. Ma poi l'ultimo passo, ecco la sete di Dio, chiede alla samaritana dov'è il luogo dove bisogna adorare, dove si incontra Dio, dove posso incontrare Dio. Ecco e alla fine Gesù dice una cosa che non aveva detto mai a nessuno, la rivela questa donna, questa donna diremmo oggi non solo straniera, eretica, samaritani erano assolutamente in rotta con i giudei, come era Gesù, ma anche una donna in situazione irregolare diremmo oggi, una donna di facili costumi al tempo, una donna considerata male. A questa donna Gesù fa la rivelazione più grande, sono io il Messia, io che parlo con te, l'inviato di Dio, è lui il vero pozzo, è lui la vera sorgente di acqua che dà la vita eterna, è lui che attraverso i sacramenti, qui si parla di acqua, è chiaro il riferimento al battesimo, è lui che trasforma la nostra vita e mette dentro questa vita biologica diremmo il seme della vita eterna e allora non si può più tenere questo dono per sé, la donna dimentica la brocca, abbandona la brocca che era il motivo per cui era andata al pozzo e corre a raccontare ai suoi concittadini samaritani l'incontro che aveva fatto. Questa è la vita cristiana, un incontro, un incontro che ti cambia la vita e che non puoi tenere per te. Grazie a tutti, grazie a tutti.